I carabinieri della stazione di Sciara hanno tratto in arresto un trentenne per detenzione e porto abusivo di armi e munizioni ed esplosioni pericolose. L'attività dei militari dell'arma è scaturita dalla visione di un video postato sui social network che riprendeva una coppia che con un fucile da caccia esplodeva diversi colpi in una zona di campagna. Avviati i dovuti accertamenti, i carabinieri hanno individuato gli indagati e nel corso delle perquisizioni domiciliari hanno rinvenuto a casa del trentenne due fucili da caccia e circa 130 cartucce. Per l'uomo sono quindi scattate le manette, mentre la sua fidanzata, una 26enne, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Merese per porto abusivo d'armi ed esplosioni pericolose. Le indagini hanno permesso di risalire al proprietario dei fucili un parente dell'arrestato che si trova all'estero per motivi di lavoro e per il quale sono al vaglio della magistratura eventuali profili di reità. L'arresto è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese.